Buonasera a tutti, benvenuti. Buonasera a tutti, l'Istituto Storzo è lieto questo pomeriggio di discutere, presentare questo volume del professor Costantino Cipolla intitolato I martiri di Gerace, una gloria sovranazionale. Sarà impegnativa la discussione nella quale si metteranno ovviamente coloro che intervengono e nella quale mi permetto di intervenire anch'io all'inizio della mia introduzione. Io credo che sia logico dal punto di vista istituzionale che i lavori si avvino con i saluti istituzionali, che autorità calabresi, soprattutto calabresi mi pare, non solamente calabresi, daranno ai nostri lavori. Quindi mi pare che tu abbia una lettera, Costantino. Sì, allora, no, non è. Non funziona così, non c'è bisogno. Allora, grazie intanto caro amico, purtroppo vecchio. Si dice vecchio amico anche tra giovani. Insomma siamo amici da 30 anni, capite? Di più, di più. Dell'ospitalità che hai voluto dare significativamente a questa iniziativa. Io devo solo ricordare il sindaco di Geraci, il quale mi ha mandato un'email che ovviamente plaudi all'iniziativa. Lui, legato alle vicende del treno ieri, è stato in stazione da non so quando, fino a sera, poi alla fine ha rinunciato. Ovviamente è inutile che vi stia dire la sua lettura, il significato di libertà, di innovazione, di forza che questo avvenimento ebbe. Mi riferisco a questi martiri di Geraci, che avvenimento ebbe per la vostra terra. Io non sono un calabrese, poi casomai accenerò il perché mi sono messo a fare questo lavoro non così facile. Sottolinea queste dimensioni, il messaggio che mi ha mandato e prende un impegno, quello il 2 di ottobre dell'anno che viene, cioè non di quest'anno ovviamente che è appena passato, di fare un'iniziativa a partire dal libro, questa volta coinvolgendo i tanti storici, chiamiamoli locali per capirci, che io ho utilizzato, citato, ringraziato, perché ho scavato da tutte le parti, ricevendo, devo dire, da Napoli a Reggio Calabria, molto sostegno. Perché oggi fare ricerca, cosa vuol dire? Vuol dire o ti mandano via email, un assare di documenti, se no passi le tue giornate tra Napoli, il paesino tal di Itali, quell'altro, insomma ci metti 20 anni invece. Grazie a questa collaborazione veramente disinteressata degli amici calabresi, adesso non voglio scendere in dettagli, e delle istituzioni con cui ho cercato di collaborare, che hanno decisamente collaborato, sono riuscito. Io ringrazio anche il sindaco di Gerace, perché il sindaco precedente, che come sapete non è più tra noi, è venuto meno, fu il primo che mi diede fiducia. Andrò a parlare con lui, avevo ovviamente la conoscenza mediata dai miei suoceri, che sono di Modi, vicino a Gerace, e però, insomma, mi diede subito la sua disponibilità, sia documentale, sia economica, perché comunque stampare un libro è sempre stampare un libro, quindi poi sono libri, che ne so, la vita sessuale di Berlusconi, che se facciamo la vita sessuale di Berlusconi, ne vendiamo 100 mila copie, domani mattina ne abbiamo già vendute. No, e quindi, insomma, era un suo... e quindi io voglio ringraziare, attraverso il sindaco di Gerace, tutta la popolazione calabrese che mi ha aiutato, e questo lo dico anche a suo nome. Prego. Grazie, Costantino. Adesso, se continuiamo nei saluti istituzionali, avremmo Vincenzo De Angelis, Presidente del Comitato Provinciale, se si vuole accomunare un attimo qua. Prego. Buonasera a tutti. Un ringraziamento particolare al professore Costantino Cipolla, anzi due ringraziamenti. Il primo per avermi coinvolto come Presidente dell'Istituto di Storia per il Risorgimento di Reggio Calabria, città metropolitana. Il secondo ringraziamento è per aversi adoperato a scrivere questo libro, che oggi ha varcato la soglia della Calabria e ci troviamo qui a Roma. Il localismo da noi, purtroppo, è una cosa molto... nella storia, cioè ogni cosa che i nostri avi importanti hanno fatto rimanevano sempre in loco, non siamo mai riusciti ad andare oltre. Quindi io mi auguro che questa pubblicazione del professor Cipolla possa portare un nuovo vento e questi ragazzi che furono mandati al martirio possano essere inseriti anche nei testi scolastici e studiati in tutta Italia. Questi ragazzi in quel momento cercavano la Costituzione, anche se erano di spirito unitario, poiché il potere politico ed economico e giuridico era nelle mani di una sola persona, di Ferdinando II dei Borboni. E purtroppo, io come Presidente dell'Istituto di Storia per il Risorgimento, dobbiamo vigilare soprattutto in Calabria, perché il movimento Neo Borboni, in quest'ultimo periodo che sta avanzando, va ad intitolare o cerca di intitolare delle strade e delle vie a chi forse meriti non ne ha. Per esempio, troviamo un auditorium intitolato una certa Angelina Romano, la motivazione vittima dell'unità d'Italia. Pensate voi, vittima dell'unità d'Italia. Siamo riusciti a bloccare una piazza in un paese in provincia di Catanzaro. Erano pronti per festeggiare alla grande una piazza Ferdinando II dei Borboni. Siamo arrivati col prefetto e siamo riusciti a bloccarla. Io ho parlato con il sito e dice come noi nelle piazze mettiamo il bronzo dei valorosi che sono morti per la libertà e per dare un futuro a tutti. E voi vi titolate le piazze ai carnefici. E mi ha risposto, ognuno ha le proprie idee. Quindi, purtroppo ci troviamo di fronte a queste situazioni. Quindi, io dico che oggi parlare di risorgimento è molto importante. Molto importante perché questo movimento influenza. Influenza parecchia gente. E quindi porta una tale confusione tra la questione meridionale e l'unità d'Italia. E quindi che quel distacco economico e sociale loro lo imputano all'unità d'Italia. E tutt'altra cosa, anzi con l'unità d'Italia abbiamo potuto notare questo distacco economico e sociale che c'era prima. Quella grande ricchezza che forse c'era in moneta, in oro. Ma noi non dobbiamo vedere nella distribuzione. Nella distribuzione erano sette, otto grandi famiglie. Se voi pensate che gli orsini dalla Puglia per andare a Napoli non passavano sulle terre altrui. Passavano solo sulla propria terra. Quindi, la grande ricchezza e la grande distribuzione. Niente, io il mio saluto è questo. Non vado oltre perché non voglio rubare tempo a chi entra nel merito del libro del professore Gipolla. Quindi, tanti auguri per il proseguimento. Grazie, dottor De Angesi. Anzi, mi scusi che non avevo letto che era presidente del comitato, ho visto solamente il nome. Bene, grazie. Da meridionale, perché sono meridionale anch'io. Ah sì. Pugliese. Mentre il professore Gipolla è del nord. Quindi la cosa deliziosa. Mantovano. Mantovano. Nel nord, Mantovano. No, visto da Foggia e da Gerace, se ti giri bene e la vedi al nord. No, prima di dare la parola al dottor Vito Perruccio, presidente dell'associazione I Care, ricordo semplicemente che questo libro, appena citato Costantino, è dedicato alla piccola Matilde. E che è una deliziosa dedica, che io ho apprezzato molto. E mi sono pentito, non l'ho mai dedicato. Niente ai miei nipoti. Se avrò il tempo e la voglia di farlo, scusi. Molto bello, molto bello. Bravo. Ai che era, mamma mia. Ai che era. Quanto che era abbiamo? Di quanto? Di quanto che era abbiamo bisogno? Io, grazie, io sono il presidente dell'associazione Museo della Scuola I Care, un museo che non siamo riusciti ancora a costituire per difficoltà che non sto qui nel saluto a dire. Però ci siamo battuti, siamo qui presenti, siamo presenti con una delegazione di soci che fin dal primo momento ci siamo costituiti, uno degli obiettivi che ci siamo posti è stato quello proprio di richiamare i valori della cultura nazionale alla quale noi siamo legati e apparteniamo. Quindi, mi avete detto come istituzione, no? Non siamo un'istituzione, siamo un'associazione, però abbiamo questa ambizione di poter parlare di questi problemi. Io ringrazio tantissimo il professore Cipolla per questo, perché ci ha fatto uscire dall'angolo angusto del localismo. Siamo arrivati fuori regione e porre all'attenzione della storiografia nazionale un problema fondamentale. E' un problema fondamentale che è stato, diciamo, accantonato per 177 anni. Oggi noi registriamo, ad esempio, che il 2 ottobre scorso il Museo del Risorgimento di Torino ha voluto celebrare i cinque martiri di Gerace costituendo e istituendo all'interno della biblioteca un angolo di documentazione che noi come associazione abbiamo fornito grazie a quello che diceva il professore agli storici così impropriamente definiti locali, che locali non sono, secondo me, si occupano e hanno tenuto in vita la figura e l'opera dei cinque martiri di Gerace. Tant'è vero, e questo lo ringrazio, il professore Cipolla li cita nel suo libro, come lui stesso ha nella presentazione detto, li ha attinto a piene mani a questi lavori e io li voglio citare pure. Enzo Cataldo, Mimmo Romeo, Gaudio Incorpora, sono tutti, Antonio Simone, anche storici che per professione non fanno gli storici, ma che sono dedicati alla ricerca. E sono stati in grado di mantenere in vita questo grande obiettivo, che è quello di definire una volta per tutti se i cinque martiri di Gerace sono a pieno titolo componenti essenziali del risorgimento italiano, oppure vogliamo circoscrivere questa storia in un ambito locale. Ahimè, questa colpa c'è nella storiografia nazionale, no? Io impropriamente dico ai nostri perché nella storia non si fanno le tifoserie, però il Sud, la Calabria, il presidente della Fondazione Sturzo fa merito di essere un meridionale. Noi abbiamo dato, come storici provenienti dal Sud, abbiamo dato un apporto alla storiografia nazionale. I testi di scuola superiore, sono testi, noi tutti ne abbiamo studiato, almeno a mia età, su Villari, sono storici, o questi storici non hanno fatto mai menzione dei cinque martiri di Gerace, che ricordiamo sono Pietro Mazzone, Michele Bello, Gaetano Ruffo, Domenico Salvadori, Rocco Verducci. Sono giovani dai 23 ai 28 anni che hanno dato la vita per i valori di libertà e di unità nazionale. Sono la migliore espressione di quella gioventù liberale cresciuta all'indomani del 1799, la grande rivoluzione liberale italiana che proveniva dal Sud, e sono quei giovani ai quali è stato tagliato e probabilmente il Sud, la classe politica, la classe dirigente in genere del Sud non ha mai conosciuto una borghesia, proprio perché è stata fatta letteralmente fuori. Di conseguenza, io trovo, e lo dico a nome dei soci qui presenti, e che fanno parte dell'associazione AICR e che non sono qui presenti, trovo assurdo che il Museo del Risorgimento di Torino non avesse fino ad oggi nessun riferimento ai cinque martiri di Gerace. Trovo assurdo, mi dispiace se non c'è qui il professore Campi, anche lui meridionale, perché lui è calabrese, che il Museo del Risorgimento di Roma salta il 1847, 1846 arriva subito al 1848, quella schedina poteva benissimo essere riempita dai cinque martiri di Gerace, perché ne hanno pienamente, pienamente titolo, hanno pienamente titolo, così come noi come associazione ci siamo battuti affinché anche la documentazione storica, mi fa piacere che c'è qui il dottore Labbate, che anche lui, le farine di gioioso, quindi anche lui è un meridionale che ci fa onore attraverso la stampa, soltanto il Corriere della Sera, solo il Corriere della Sera, giornale a tiratura nazionale, ha trattato dei cinque martiri di Gerace. Il merito è di Aldo Cazzullo, Aldo Cazzullo ha scritto sui martiri di Gerace, ha scritto sui libri, Viva l'Italia del 2010, Aldo Cazzullo ha avuto il coraggio di inserire i cinque martiri di questo. Per cui anche le trasmissioni, io seguo Raistori, adesso seguo questo bel programma che fa Aldo Cazzullo sulla Sette, che dedicasse una puntata ai cinque martiri di Gerace, io chiedo a Tommaso Labbate di farsi l'attore di questa nostra richiesta. Così come, e questo è vero quello che diceva De Angelis, noi viviamo una stagione che stiamo sottovalutando, di rigurgito borbonico, che è una forma antistorica, antistorica, che fa male all'Italia e fa male al Sud in particolare, perché sono forme che fanno passi indietro nel processo. Se prendo troppo tempo, mi è il Presidente dell'Italia. Allora, è vero questo, però noi abbiamo una colpa, noi come abbiamo una colpa che è una colpa di non valorizzare neanche quei luoghi, che sono luoghi simbolo, che vanno valorizzati come richiamo di valore storico nazionale. C'è Spano che io ringrazio e si impegna tantissimo. La prigione, mi dispiace, non c'è il Sindaco Lizzi. La prigione dove sono stati detenuti i cinque martiri di Cerace, peccato, è un ripostiglio. Eppure, grazie all'incuria, devo dire grazie all'incuria, anche se i soci da questo punto di vista mi hanno richiamato, grazie all'incuria si è conservata. Io faccio formalmente in questa sede, la richiesta lo farò al Sindaco Lizzi, che si trovi un accordo con il privato e quel bene che ha, per esempio, la prigione è intatta, la prigione ha tutti gli ospiancini, tutto è intatta, venga data alla comunità, la comunità cittadina, ma non solo cittadina, i giovani come fanno a formarsi un'idea di essere componenti di questo paese, unitariamente considerato, se non hanno riferimenti. Sui libri di storia, la storia ignora i cinque martiri di Cerace, neanche come contesto vengono richiamati. I beni che noi abbiamo, non li valorizziamo, che richiamano questa gloriosa storia, e quindi è compito anche nostro. Questo non significa essere ai critici, nel modo più assoluto, sul processo risorgimentale come è venuto, le pecche che ha, e noi le conosciamo benissimo, ma questo non ci esime da essere i primi noi a dover tutelare questi beni, tutelare questa storia. Per cui io vi chiedo scusa se sono stato lungo, vi ringrazio, ringrazio ancora una volta il professore Cipolla, e siamo contenti di essere questa storia. Grazie. Grazie a tutti. Io adesso farò una breve presentazione per poi dare la parola al professor Spanò e al dottor Labate. Nella mia, in questa mia presentazione, anzi questa presentazione, probabilmente dovrà dire che la discussione che ci abbiamo a fare è una discussione importante perché siamo di fronte con questo libro che ho già citato, a una ricerca fuori dall'ordinaria. Anzi, io vi permetto, sono un vecchio storico, di dirla, una ricerca straordinaria per vari motivi. C'è un motivo estrinseco, diciamo, perché è una ricerca condotta da Costantino Cipolla che ha ricordato l'antico rapporto che, come sappiamo tutti, è un professore emerito adesso di sociologia dell'Alma Mater di Bologna e che ci ha abituati da anni a tener conto nella sua produzione non solo della sociologia, soprattutto, per quel che ricordo, della metodologia sociologica, ma anche di ricerche di tipo più strettamente politologico e storico, dalla storia dei concetti politici alla storia militare, un campo molto vasto. E qui Lugia va in un campo, lavora in un campo che non è usuale in Italia, non solamente da parte della storiografia nazionale, della storiografia politica nazionale, ma neanche da parte di quei pochi elementi di storia sociale che abbiamo avuto in Italia. In Italia la scuola dell'Annau non è fiorita, non abbiamo avuto storici dell'Annau, eppure avevamo un antesignano come Brodel che aveva scritto sul Mediterraneo molto, distinguendo il Mediterraneo islamico dal Mediterraneo cristiano, quindi il nostro Mediterraneo, il Mediterraneo su cui si affaccia anche la Calabria. Ora, perché ho usato questo termine straordinario? Per vari motivi. Innanzitutto perché abbiamo tra le mani un tentativo, ritengo importante, come ho detto, di ampliare, di contaminare tra loro e in varie direzioni i tradizionali modelli e le tradizionali modalità di studio che si sono riservati in Italia almeno da un secolo e mezzo i settori della sociologia e i settori della storia. Quindi praticamente i settori fondamentali della ricerca umanistica. io credo che si tratti nel caso di questo libro qua del tentativo di scomporre tra loro gli statuti epistemologici, cioè il modo con cui ci si pone di fronte a una ricerca i fondamenti di scomporre di scomporre tra loro gli statuti epistemologici tra due discipline appunto dicevo la sociologia e la storia arricchendoli di altri spunti economici, filosofico-politici, geografici che di solito o difficilmente sono utilizzati sia nel campo sociologico che nel campo storico. nel campo storico scomporre per ricomporre nel tentativo di ricomporre con un nuovo modello interpretativo un nuovo statuto epistemologico flessibile secondo me e aperto a processi innovativi che attraverso questo lo dice Cipolla direttamente attraverso progressive integrazioni e sul filo di una ecletticità proattiva i termini sono di Costantino apre la prospettiva di scrivere anche questo di Costantino una storia autentica rigorosa completa aperta alla comprensione piena dell'evento quindi diciamo aperta a riscrivere a riscrivere con tanto integrando fatti con culture con situazioni economiche e sociali che è un mestiere lo posso dire per quello che ho fatto nella vita che è un mestiere che praticamente non esiste almeno nel nostro paese e c'è voluto coraggio oltre che disponibilità e oltre che entusiasmo disponibilità e entusiasmo sono tipiche della persona cipolla disponibilità a fare questo quello vuol dire che ci vuole anche della forza della volontà di stare a ricamare e a mettere insieme i pezzi i tanti pezzi ora come funziona come lo fa funzionare questo modello cipolla ci proprio fa funzionare verificando e sviluppando un episodio lontano scusatemi io ho fatto lo storico ve l'ho detto sono storico delle idee politiche delle dottrine come Campi anche se mi sono occupato di cose diverse da Campi ma io ne sapevo sapevo di un episodio di un spedopi Costantino capovolge il piano e da un modello interpretativo ripresa dalle storie nazionali lui ridiscute le storie nazionali partendo da una storia locale da un episodio di storia locale l'episodio appunto che riguarda il breve rapido tentativo ribellistico insurrezionale da parte di cinque giovani che se non ricordo male non hanno mai sparato e più che occupare qualcosa o fare un po' di pubblicità non hanno fatto hanno pagato questo non fatto in maniera terribile sapete la prigione quel folle processo di cui si scrive nel libro e poi la fucilazione e il 2 ottobre del 47 nella davanti o dentro la chiesa dei cappuccini non mi ricordo e allora questo capovuggimento è un fatto è un fatto importante come lo giustifica Costantino Costantino giustifica questo questo suo metodo questo suo indirizzo nuovo parlando della dei fatti dei martiri di 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 gerace usando il termine martire che come sapete ha un'origine religiosa ma che la storiografia cominciando da Chabot dice che in fondo non è solo testimonianza non significa solo testimonianza martire ma anche una azione proattiva un'azione verso che indica delle strade nuove il martire non è solo quello che subisce la violenza ma anche quello che propone un modo di vivere per il quale lui sta sacrificando la vita e allora come lui lo chiama l'eroica scintilla dei martiri di gerace una scintilla e se noi vogliamo continuare sulla su questa metafora di scintilla potremmo dire che è un fatto che come spesso accade chissà chi ha il cammino in casa spesso sotto la cenere il fuoco si conserva quindi probabilmente questo fuoco questa scintilla ha ripreso vigore anzi per Costantino Cipolla sicuramente ha ripreso vigore è ridiventata fiamma e lui aggiunge subito quell'altro cambiando direzione località è tornato verso Mantua è legato questo evento all'evento dei martiri del belfiore che è un evento che va si muove addirittura circa un decennio dal 51 al 59 e che è il decennio quello che gli storici chiamano il decennio di preparazione in cui si prepara tra sconvitte rivendicazioni tra assi e diciamo e rapporti internazionali tra lo stato di Sardegna e il Piemonte e l'altro la Francia contro l'Aus la storia che conosciamo conosciamo tutti e cosa hanno in comune non è solamente la scintilla perché si scopre una cosa che gli economisti ci hanno insegnato non negli storici né i sociologi mi permetto di dire che ci sono dei contesti nella lunga Italia che hanno molte analogie perché anche Mantua la campagna di Mantua era una campagna di contadini non c'era il rapporto contadino barone non c'era quella dinamica del sud non c'erano le chiese ricettizie del sud le chiese per cui i preti i parroci dovevano rendere conto della loro azione al signore del luogo quindi dovevano esercitare una pastorale soprattutto giocando sulla pietà popolare e nello stesso tempo difendere gli interessi dei padroni quindi una chiesa ferma frenata non solamente dai borboni come il vescovo di Gerace non mi ricordo Perone non solamente quello ma c'era questo fondo eppure dei preti sono citati dei preti ci sono a Catania dei preti ci sono a Messina dei preti ci sono a Gerace nella Calabria di Veni allora Cipolla ci piace ci cita chiama questo episodio tragico una ribellione che per gli elementi culturali per le sue origini almeno almeno ma si può andare più indietro dalla Costituzione del 1820 diventa lentamente un processo che da ribellione da ribellistico diventa un processo rivoluzionario cioè nel senso che si assumono a parte le rivendicazioni sociali e le rivendicazioni diciamo di autonomia fino anche l'uso dell'acqua del mare pensate l'acqua del mare nel 1847 vietava l'uso dell'acqua del mare da sparargli in faccia insomma uniscono queste esigenze profonde noi sappiamo il sale cosa significava e cosa vale e cosa vale e cosa significa anche oggi fino uniscono questi elementi a dei elementi culturali importanti che sono la filosofia che nasce nel regno di Napoli ma è feconda in Calabria il professore di filosofia o comunque Pasquale Gallup e altri tanti altri che adesso io non so citare ma che troverete in maniera molto attenta e molto precisa descritti da Cipolla questo è un processo che grandi storici hanno percorso purtroppo non in Italia hanno percorsi per esempio in Francia se noi pensiamo a François Fioré grande studioso della rivoluzione francese François Fioré studia e definisce ribellistici o ribellioni gli elementi locali che nel 1787 88 89 nella Francia emergono improvvisamente dalla Normandia fino alla Provenza è che ovviamente il centro parigino parigino è la Francia Parigi e la Francia si canalizzano verso uno sviluppo rivoluzionario questo secondo me è un modello che da 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 dalla illustre purtroppo non italiano con queste premesse Costantino va a toccare un momento delicato peccato che non manchi i campi va a toccare una cosa molto interessante c'è nel senso che E questo suo modello di fare la storia partendo dal basso, cioè dalle situazioni locali, per verificare quanto le situazioni locali giungano, siano efficaci a livello nazionale, anche come, diciamo, in funzione carsica, come dei fiumi carsici che girano tutto il paese, e questo modello di interpretare o di leggere la complessa storia sorgimentale si stacca innanzitutto da una modalità di fare la storia, che è stato tipico in Italia. La storia italiana, la storia sorgimentale italiana, si è accoppiata sempre alla storia del Sud. Infatti, il personaggio più grande, diciamo, della storiografia idealistica italiana, cioè Benedetto Grossi, che più volte è citato nel libro, è la persona che ha scritto, a breve distanza di tempo, una storia del Reame di Napoli insieme a una storia dell'Italia contemporanea. Quindi il Sud è un capitolo della storia. Ora, cosa c'è? E io qui concordo con Cipolo, con il professor Cipolo, che tutti convergono, e qui non solamente la storiografia idealistica, ma anche, con ragioni diverse, la storiografia marxista, il risorgimento come rivoluzione mancata di Gramsci, e poi degli storici che si rifanno a Marx, questa storiografia è concorde nel fatto che l'apporto meridionale al processo ricercimentale è un apporto da tutto minorità. Nei libri che citava prima i nostri amici era l'apporto dei battelloni di Ferdinando II, che era curtatone montanare, e poi di un po' di giovani sparsi che hanno combattuto, hanno deviso, erano riconoscibili come meridionale. Il resto no. La correzione di rotta è importante, quella che propone, come fanno sempre gli studiosi, non impone, propone Cipolo, e questa è quella di capire che l'astrografia crociana, anche quella gramsciana, quella crociana in particolare, è un'astrografia che si muove sulla linea della ricostruzione della storia e della libertà. È risorgimento, è una storia gloriosa della libertà nazionale. Ma cos'è che contesta, al fondo, Cipolo? Ho capito bene, poi lui mi correggerà. Contesta il fatto che Croce, nella sua storia del regno di Napoli, mentre salta, con stampo idealistico ma anche illuministico, la conoscenza nazionale da cui potrà emergere il processo risorgimentale, contemporaneamente addebita alla storia napoletana, storia del regno di Napoli, quindi delle due Sicilie, adebita di fatto che non ha prodotto, non si è prodotta una coscienza politica. Una coscienza politica che abbia agito sulla coscienza nazionale da cui è nato il risorgimento. Giù non c'era una coscienza politica. I martiri di Gerard, ci sono un esempio, probabilmente ce ne sono dell'altro, in Italia, sconosciuti, scomparti, dimenticati, che Benedetto Croce non cita. Perché era grave, secondo Croce, la mancanza di una coscienza politica? Perché lui la verifica dal fatto che manca, è mancata una coscienza, una classe dirigente meridionale. Una classe dirigente che desse una missione al SUB. E qui il Croce andrebbe corretto, io mi permetto, avendo lavorato non con lui ovviamente, ma un po' con sua nipote, è che indubbiamente cosa doveva, come si entrava nella classe dirigente nazionale. Con un suffragio in cui avevano diritto il 2%, meno del 2%, diritto. E i montanti erano poco più dell'1%. La classe dirigente meridionale è quella che ci descrive il gattoparo. Quando dal marchese, come diavolo si chiama, come si chiama la persona, il principe di Savina, il messo di Vittorio Emanuele di Savunio, va a dirvi, fate il senatore, fate il senatore. Perché i senatori erano di nomina regge. E quindi era sicuro che come la classe dirigente, cioè i baroni, potevano diventare senatori. Perché di altra classe dirigente non poteva emergere. Non è che non emergere. con quel livello di suffragio di cui vi dicevo. Ora, e questa è la storia vista dall'alto. Cioè a partire dal di sopra manca la coscienza politica e mancata la classe dirigente. Tutto quello che c'è stato, anche il sacrificio delle vite, questa è una ragazza dei 22 e 28 anni, c'erano proprio giovanissima, beh che a quei tempi là si diventava maturi molto prima che nelle nostre, nell'attualità, adesso i ragazzi di 30 anni sono praticamente ragazzini imberbi, insomma, che hanno ancora la mancetta da parte del padre. Molti, ecco, non tutti, ovviamente. E allora a 22 anni o eri nella storia o non c'eri. Questi sono entrati di forza nella storia. e quindi l'ottica va capovolta per gli studi futuri. Quindi si è tutto ancora da rivedere. E Costantino dà delle piste importanze per me. Io avrei un attimo più, ho fatto più attenzione se mi permetti, Costantino, più attenzione oltre a tutti gli elementi filosofici, culturali, politici, io sarei stato un po' più attento al tema della pietà popolare. Perché la pietà popolare in fondo era un modo non solo di tenere rassegnati gli uomini del sud ma anche di educare i giovani del sud. Purtroppo la chiesa ricettizia non aveva queste capacità ma c'erano dei preti che la agivano. E qui ci sono i grandi studi di un altro meridionale, di un altro grande meridionale Don Giuseppe De Luca che ci hanno dato questo indirizzo, questa indicazione storiografica. L'unica cosa sulla quale io mi soffermerei ma poi ovviamente io chiudo con questo è che bisogna stare attenti. Questo Stato nazionale nostro, questa unità d'Italia è nata fondamentalmente come conquista piemontese. Lo Stato l'immagine dello Stato non l'hanno dato i piemontesi l'hanno dato i siciliani o i meridionali spaventa Vittorio Emanuele Orlando Santi Romano i quali sulla scia diciamo del stat tedesco di Gelinek hanno configurato lo Stato italiano come uno Stato omnipotente da cui derivavano concessioni progressive dei diritti eccetera. E badate bene quando nasce l'Italia l'ultima legislatura del Regno di Sardegna era la settima. il Regno d'Italia non ha una prima legislativa ha l'ottava legislatura del Regno Vittorio Emanuele II era re di Sardegna e non diventa Vittorio Emanuele I rimane Vittorio Emanuele II cioè non accetta neanche il cambio di quello che si chiama il numerario questo ovviamente ha delle motivazioni politiche importanti che certamente contrastano con quei filoni di ardore culturale sociale e costituzionale di cui si erano fatti portavoce e vittime gli uomini di Cerace poi però un'ultima cosa che ho chiuso davvero questa Calabria bisogna che la studiate perché è veramente interessante perché io non posso dimenticare le cose che mi spaventavano quando ero molto giovane questa Calabria in preda al Boiacimoula di Ciccio Franco questa Calabria che chiama intere divisioni per bloccare i moti di reggio questi moti di reggio che sono coadiuvati alimentati dal movimento sociale di quel periodo e non ce lo scordiamo questo fa parte della storia complessa del nostro paese che ha avuto martiri svolte assieme alla grande produzione intellettuale della Calabria pensiamo ai romanzi alla cultura letteraria calabrese che è stata altissima pensiamo soprattutto a questi ragazzi che si portavano nel taschino un sogno e che questo sogno li fu tolto ma poi è rimasto in eredità a noi basta grazie e do la parola a professor Spanò Francesco Spanò della Luisa Guido Carli direttore delle risorse umane della Guido Carli prego grazie scusa è stata con grande attenzione e mi ha dato molte risposte che la mia tradizione di Geracese e di lettore del libro del professor Cipolla mi hanno portato a pormi diverse domande il professor Cipolla nel suo libro dedica una certa attenzione appunto al ruolo anche della storiografia e dell'assenza nei libri di storia della vicenda dei cinque martiri io sono stato invitato dal professor Cipolla e lo ringrazio perché sono protagonista semplicemente di questa storia in quanto Geracese in quanto la mia famiglia nel 1867 non so se possiamo partire con la presentazione esatto vediamo ecco qua ho sostanzialmente acquisito il palazzo Malarbi che ospitò il processo dei cinque martiri quindi il mio compito è quello di essere un orgoglioso Geracese che è molto onorato di partecipare a questo tavolo dove abbiamo degli studiosi di fama nazionale e internazionale e quindi il mio compito è solo di rappresentare visivamente agli amici Geracese presenti e a chi non c'è i luoghi che si sono svolti perché i luoghi parlano ancora qui vedete appunto l'arresto di Michele Bello che è uno dei protagonisti e il circondario di Gerace è descritto molto bene in questa stampa che è l'attuale Locride e vedete che al centro c'è Gerace che era appunto il capoluogo della zona della parte ionica dall'altro lato invece abbiamo il distretto di Palmi qui invece siamo ho voluto rappresentarlo in questa cartolinica che indica l'alloggio del generale Nunziante che come sapete è il protagonista principale uno dei protagonisti principali di questa storia e questa cartolina dove c'è scritto proprio l'alloggio del Vescovo che quella è la cartierale e all'estrema al nord proprio c'è il palazzetto del Vescovo con un balcone che si affaccia di fatto ancora esiste questo e ho voluto paragonare il salone d'onore dell'attuale Palazzo Vescovile che fu abbandonato dal Vescovo Perantone nel 54 con danni enormi alla città come li fece il Vescovo Perrone è restaurato e vedete questo è il salone d'entrata del Palazzo Vescovile quelle porte che notate sono le porte dell'appartamento privato del Vescovo e troviamo questo bellissimo arazzo fiammingo che è uno dei più belli che sono conservati in Italia addirittura perché di mattinatura di Lernier siamo verso la fine del 1600 quindi insomma il nunziante scelse il luogo dove stare ospite del Vescovo questa è appunto la sala del tribunale che ospitò la commissione militare presieduta dal famoso colonnello Francesco Rassarol ed è la via che adesso è la via Diez il secondo portone verde che vedete giù in fondo quello che sostanzialmente dove sono nato io e questo è il salottino dove fu celebrato il processo dei cinque martiri perché i Borboni affittarono questo palazzo che apparteneva alla famiglia Marabì appunto per ospitare il tribunale speciale qui invece abbiamo la famosa cella che il professor Peruccio ha prima citato che vedete rimasta intatta sostanzialmente abbiamo questa fotografia a destra dove fuono ospitati cinque martiri e quattro anni fa io ho proposto e abbiamo avuto il consenso dei cinque sindaci che hanno dato in atta le cinque martiri di farlo diventare un museo risorgimentale dei cinque martiri non abbiamo avuto diciamo il finanziamento regionale quindi in effetti si potrebbe immaginare di portare avanti ormai penso che non ci sia più possibilità questa proposta al sindaco di Gerace all'amministrazione o ad altri enti per soffrire di questa sede perché ritengo che il luogo aiuti molto alla memoria dei presenti soprattutto dei futuri qui curiosito dal dal racconto del professor Cipolla ho voluto un po' raccontare alcuni personaggi della della storia anche perché abbiamo dei documenti qui abbiamo il vescovo Perrone e anche la sua lo stemma della tomba che si trova in Cattedale dove trionfa il famoso riconoscimento della gran colce di Cavaliere dell'Ordine di Francesco I e il sindaco Ettore Migliaccio che allora appunto era sindaco della città e quindi insomma mi faceva piacere rappresentarlo come ho voluto anche rappresentare altri protagonisti soprattutto Pasquale Scaglione che nel suo libro di storia locale Gerace non dà peso e dignità ai poveri cinque martiri ma ho voluto anche rappresentare Gian Battista Candida perché nelle mie varie curiosità che faccio nella zona fotografo tutto e quindi ho trovato anche questi collegamenti e vengono citati poi nel libro del professor Cipolla ma anche in altri libri di Cataldo e di tantissimi altri che come è stato detto il professor Perruccio hanno dato grazie a loro al loro studio la possibilità di mantenere questa memoria e quindi andare avanti qui abbiamo la famosa piana di Gerace dove è avvenuta la fucilazione questa differenza del libro di Cipolla non è una stampa di Edward Lear ma è una stampa invece del Zampichelli che rappresenta Gerace dopo il terremoto del 1783 a sinistra mentre a destra sono le famose cartoline che quando iniziò a uscire fuori la memoria dei cinque martiri ne furono diciamo pubblicate abbastanza per seguire il monumento che fu eretto solo aggiungo nel 1931 nella piana di Gerace dove avvenne la fucilazione e c'è questo bel basso rilievo dell'artista locale Vincenzo Gerace di Polistena molto bello che vorrei ricordare che ha anche fatto delle opere che oggi si trovano al Vittoriano quanto per restare in tema di risorgimento qui invece c'è il monumento che fu costritto invece nella Gerace Marina ben diversi anni prima nel 1872 perché appunto ci fu questa spinta liberale che in effetti voleva portare anche a un riconoscimento proprio nelle zone dove c'era un pensiero chiamiamolo nuovo oggi Locri e qui ho voluto indicare le numerose cartoline di ricordo dei cinque martiri vedete sono tutti raffigurati con due piccoli particolari il primo quello è un disegno dello scultore e pittore Salvatore Salerno del 1891 che io ho trovato casualmente in una cassa di libri di una donazione di un mio parente Spanò di Locri e mentre a destra c'è una fotografia all'albumina come si usava una volta che è conservata al museo di risorgimento di Roma qui lo racconta anche molto bene il professor Cipolla abbiamo delle rappresentazioni contemporanee di ricordo dei cinque martiri a Bovalino c'è la piazza dedicata appunto a Gaetano Ruffo poi abbiamo Rocco Verducci a Caraffa e a Siderno Michele Bello con questa con questo busto e poi questa medaglia che è del 1997 e qui ho voluto questa è una mia chiaramente ricordo vedo che la professoressa sorride il famoso bacio di Hayez perché 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 almeno noi calabresi siamo documentati nella storia del famoso berretto la calabrese e o all'ernani quindi insomma dipende come lo vogliamo leggere almeno questo penso che sia un ricordo simpatico e lo stesso qui abbiamo Garibaldi che viene riportato nella 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 storia quindi insomma il mio contributo era un contributo di memoria visiva penso che sia giusto lasciare questa foto così per ricordare e finisco con delle domande che vorrei fare agli autorevoli storici e scienziati che sono qui presenti al tavolo e tra noi sul fatto di due protagonisti che io ritengo in questa storia un po' particolare la prima è che noi siamo stati anche un po' sfortunati tra le varie disgrazie che ha avuto la Calabria oltre a quelle che sono state dette in modo molto chiaro dal professor Antonetti che noi non abbiamo avuto un racconto alla Tommasi di Lampedusa del risorgimento calabrese e questo purtroppo noi abbiamo avuto solo un di fatto un grande scrittore conosciuto in tutto il mondo che è Corrado Alvaro poi gli altri scrittori calabresi Sisa Veriostrata eccetera però insomma dobbiamo riconoscere vedo il senatore che annuvisce sull'importanza del parco letterario che lui sta portando avanti da anni però nel mondo Corrado Alvaro è quello che in effetti ci distingue quindi manca questo aspetto l'altro aspetto è ma il nunziante il marchese nunziante di San Ferdinando l'attuale vicino a Rosanna è chiaro che aveva tutto il tempo per poter chiedere la grazia oltre al potere di farlo perché il libro di Cipolla in questo è molto del professor Cipolla è molto chiaro io ritengo che non a caso Ferdinando secondo fu accusato come re bomba cioè era una persona che aveva deciso di mettere a tacere qualsiasi forma del pensiero liberale uccidendo chi si osava mettersi contro il potere costituito il nunziante scese secondo me con le sue duemila truppe prima a Pizzo e poi a Gerace per convincere e sì la pietà del popolo come accennava prima il professor Antonietti anche la aristocrazia e la borghessia locale perché è chiaro che come si può star zitti di fronte a una terribile fucilazione di cinque giovani in questi termini cioè io conosco quella mia terra e conosco anche le famiglie che vengono citate è chiaro che lì passò una linea che è un po' quella non si fanno compromessi non si fanno accordi che se vogliamo ricordare anche io ho studiato storia contemporanea è un po' quello che è successo anche con il terrorismo cioè con con i terroristi non si tratta secondo me a mio modesto parere quindi volevo lanciare un po' questa perché è strano che ci sia stato questo silenzio totale per quanto riguarda il vescovo e poi mi taccio io ritengo che il vescovo Perrone sia uno dei peggiori vescovi che ha avuto nella millenaria storia di Gerace ne abbiamo avuti parecchi il primo l'ho citato che è Perantoni ma Perrone è il peggiore di tutti non c'è dubbio non c'è dubbio è indifendibile è indifendibile grazie 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 adesso diamo tornare da parte grazie 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 buonasera io innanzitutto professore mi devo mi devo scusare per essere arrivato in ritardo e soprattutto per dover andare via subito ma per chi fa il mio disgraziatissimo mestiere oggi una di quelle giornate che ritagliarsi diciamo uno spazio di tempo per una discussione che diciamo certe volte quando ho la fortuna di immergermi io qua ci sono venuti tantissime volte perché quando Francesco Spanone lo sa quando preparavo la tesi sul caso Moro di Sudosturzo era diciamo insieme al Gramsci erano frequentazione quotidiana diciamo che se si potesse ripristinare ripristinare la vecchia e cara usanza del reddito di cittadinanza io ne approfitterei soltanto per passare delle giornate così quindi sarò molto rapido nel senso che raccolgo due suggestioni del professor Antonetti e una del del professor Vito Pirruccio una su quanto è prezioso il libro di Cipolla io mi sono fatto come dire un'idea molto basilare del perché questa forza narrativa di questa storia che è una storia nostra sia stata come dire resa così arriva a dire anche cinematografica da una penna e da una testa che non sono delle parti nostre perché non sono delle parti nostre io penso che noi come come ci capita su determinati aspetti del nostro vivere persino sui pezzi storici siamo diciamo bravi a farci valorizzare soltanto rispetto a chi ha un occhio diciamo non propriamente calato nel territorio d'altronde diciamo delle cose bellissime di Gerace venne scritte anche da Edward Lear che fu che viaggiò in 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 Calabria stiamo parlando di due Cipolla e Lear che non hanno appunto Natali nella zona punto due penso che la storia meriti una una nuova diffusione proprio perché lo diceva il professor Pirruccio se non sbaglio prima siamo invasi da una sedicente letteratura neanche troppo cripto borbonica che negli ultimi anni ha fatto diciamo strage di copie anche in libreria non l'avrei detto se non ci fosse stato diciamo qua Franco Crinò il senatore Franco Crinò a farmi da buon testimone ma non più tardi di un mese e mezzo fa nel momento in cui alla villa romana di Casignana Crinò ha organizzato un momento di grande discussione c'era Enrico Mentane eccetera eccetera io toccai proprio questo punto si parlava del centenario di Saverio Strati che io dissi diciamo se vogliamo uscire dalla giornata di oggi facendo un regalo alla collettività regaliamoci libri come quello di Saverio Strati e lasciamo in libreria parte di questa pubblicistica cripto ma neanche troppo cripto borbonica che negli ultimi anni soprattutto con determinati soggetti ha fatto diciamo un bel po' di copie vendute incrociandosi tra l'altro con diciamo un sentimento nazionale secondo me molto diffuso e non meno pericoloso di quel leghismo che dall'altra parte puntava diciamo a fare la secessione anni fa se noi vediamo Bossi mi fa comunque meno paura di tutti questi istinti pseudo separazionisti che diciamo albergano in certi casi nelle coscienze di chi per esempio non ha letto Saverio Strati e non ha letto ancora il libro del professor Cipolla punto numero tre la diffusione alla storia e io sarò diciamo tentato molto spesso mi capita di ridurre all'osso una questione sarà per diciamo una sorta di deformazione professionale ma il libro di Cipolla e la storia di Marti di Gerace non sfigurerebbero in una serie su Netflix lo dico a titolo di provocazione ma neanche troppo perché parliamo di una storia in cui si incrocia diciamo uno dei semi che poi avrebbero dato vita al risorgimento e quindi a quel lunghissimo percorso che poi avrebbe portato all'unità d'Italia uno degli esempi rari dalle nostre parti e questo sarebbe questa rarità sarebbe seguita anche nel periodo non solo dell'unità d'Italia ma anche repubblicano in cui c'è l'elemento della borghesia che si pone alla testa delle masse con un ideale libertario la nostra diciamo borghesia o quello che più assomiglia alla borghesia in una terra come la Calabria si è divisa tra l'asservimento eccessivo di quella che era un tempo l'aristocrazia e dall'altro lato l'asservimento diciamo sospetto in questo caso anche eccessivo di quella che poi col tempo è diventata la criminalità organizzata quindi la nostra borghesia è stata spezzata in due parti comunque in nessuno dei due per citare Brecht erano seduti dalla parte della ragione del torto perché gli altri posti erano occupati e quindi questo è un elemento di grande forza narrativa e da ultimo è una storia calabrese è una storia italiana insieme professor Cipolla che ha dei rarissimi remake o replay nella storia nella storia repubblicana vedi a me i libri ti sorprendono soprattutto i libri di storia solitamente per un motivo su tutti soprattutto quando la storia è molto diciamo indietro nel tempo e va molto al di là dell'ultimo avo che tu sei in grado di riconoscere o di cui conosci il nome e cognome cioè tutte le volte che ti sa di già visto già letto già sentito questa invece è una storia inedita la forza del racconto della storia dei martiri di Gerace che si svolge in un arco di tempo tutto sommato molto breve e che per tanto tempo non avrebbe lasciato traccia nella nostra pubblicistica che per fortuna oggi col professor Cipolla ma citava Vito Perruccio prima anche un libro di Aldo Cazzullo di qualche anno fa rivive conservando intatti secondo me i suoi tratti di unicità quindi se posso cavarne diciamo una piccola lezione dall'aver letto il libro e di aver avuto la fortuna di discuterne anche se purtroppo troppo brevemente con voi oggi è la stessa che mi portò al convegno organizzato un paio di mesi fa da Franco Crinò alla Villa di Casignana ed è stavolta non cito Saverio Strati e cito il professor Cipolla leggiamo il libro del professor Cipolla qualche volta in più per chi l'avesse già letto e tutta quella sorta di pubblicistica neanche troppo cripto borbonica lasciamola dove merita di restare cioè in libreria grazie grazie per l'intervento speriamo davvero che sia propositivo questa intenzione allora adesso a chi tocca scusate ma Gratteri non c'è e la Bate ha fatto Granata Mio e Fiorini la professoressa Sergio benissimo la professoressa Sergio mi spiace questo troppo impegni si si ma questo su processo sarebbe stato interessante magari lo farai esprimere con un peper allora professoressa una nostra contemporanea importante studiosa di grande livello e che ci onora sempre per la sua illustre presenza e che stasera affronta un po' i temi che abbiamo trattato i martiri di Geraci a partire dal volume di Costantino Cipolla prego grazie effettivamente quando Costantino Cipolla mi ha invitato a presentare il libro gli ho risposto subito che io sono una contemporaneista pura quindi non mi sono mai occupata di risorgimento neanche di mezzogiorno non ho altri titoli per parlarne che la mia credo in dubbia calabresità perché sono nata e cresciuta alla mezza termine fino all'età di 17 anni però mi fa sempre piacere essere riportata alla storia della mia terra come fa questo libro di Costantino Cipolla che effettivamente fa riemergere questa pagina dimenticata coloriosa della storia calabrese ma non una pagina secondaria perché come recita giustamente il titolo una gloria sovranazionale cioè colloca questo risorgimento calabrese nel crucevia delle grandi correnti culturali e politiche del lungo ottocento come si suol dire lo fa da sociologo Costantino Cipolla è soprattutto un sociologo per una collana di sociologia che dirige per Franco Angeli quindi magari il libro ha un taglio più aperto e problematico rispetto magari a un libro descrittivo come quello di Enzo Cataldo che è stato già citato sulle insurrezioni di Gerace nel distretto di Gerace lo fa sollevando problemi di natura intellettuale come quella dei processi di elaborazione della memoria collettiva e del ruolo che ha avuto su di essi il rapporto asimmetrico nord-sud tant'è vero che il libro come è stato detto gioca su questa sinossi con il più famoso episodio dei martiri di Belmonte nel Mantovano a metà degli anni 50 dell'Ottocento lo fa però dialogando con la storiografia al punto che restituisce a Gerace e lo statuto di quello che noi contemporaneisti amiamo dire citando un libro famoso di Pierre Norrat Le lieu de la mémoire cioè un luogo della memoria quei luoghi che sono una traccia tangibile del legame della comunità con il proprio passato e quindi meritano di essere pubblicamente riconosciuti e ufficialmente tutelati lo fa a partire da una premessa metodologica che il presidente Antonetti ha già sviluppato cioè superare la vecchia tradizione idealistica che limita la storiografia all'ottica elitaria dell'ideologia dei gruppi liberali ma anche quella marxista limitata alle trasformazioni socio-economiche ma invece individuando a partire anche da una provocazione cioè lui discute il libro del 2007 famoso di Banti Ginzburg su una nuova prospettiva del risorgimento lì veniva indicata la necessità di considerare altre variabili come le ritualità popolari le pratiche collettive le dimensioni familiari e private ma Cipolla ci dice quella prospettiva di Banti Gisborg rimane sul piano della dichiarazione dei principi ma non è stata mai veramente portata avanti e il libro segna un passo importante in questa direzione come ha detto benissimo il presidente Antonetti per la verità negli ultimi anni si sono registrati alcuni studi interessanti quelli di Viviana Melloni dell'Università Federico II di Napoli che il libro cita spesso anche Antonio Buttiglione dell'Università di Salerno e questi libri insieme a quello di Cipolla ci aiutano a ricostruire il profilo generazionale e ideologico dei patrioti calabresi faccio un passo indietro rispetto ai fatti di Gerace il 1832 lo sapete viene fondata la società segreta dei figliuoli della giovane Italia per iniziativa di Benedetto Mussolino che è un patriota di Pizzo Calabro in questa società si prefigge di creare un nuovo ordine sociale basato sulla giustizia attraverso un nuovo patto sociale parole dello statuto e una nuova costituzione e già questo indica ma lo dice anche il professor Cipolla una specificità del risorgimento calabrese rispetto ai democratici mazziniani perché pur guardando all'obiettivo più remoto della unificazione nazionale e dell'indipendenza nazionale assegna priorità alla lotta contro l'assolutismo nella cornice dello stato borbonico per cui l'obiettivo prioritario è quello di tornare alla costituzione di Cadice che è la migliore garanzia di una sovranità popolare in attesa dell'instaurazione della Repubblica e tutto questo è associato a una rivendicazione anche di caratteri religiosi i tributi gli elogi tributati a Papa Pio IX e un tema ricorrente nel libro che io ho contato 18 volte la ricorrenza di questo argomento che è anche il più interessante per me perché sono una storica del movimento cattolico e della Chiesa effettivamente un'altra società lo sappiamo dagli studi che abbiamo citato prima importante segreta nata a Catanzaro nello stesso periodo è la società evangelica fondata da Don Domenico Angherà che si poneva l'obiettivo di conciliare democrazia repubblicana ed egualitarismo cristiano tant'è vero che nel 1848 quando Ferdinando II concede la Costituzione l'11 febbraio in risposta all'insurrezione napoletana del gennaio di quell'anno vediamo numerosi sacerdoti in realtà affiliati alle logge massoniche alle società segrete rivendicare l'avvento di una società più democratica più giusta nella prospettiva appunto di una palingenesi morale e religiosa e Cipolla commenta a proposito di questa rivendicazione insomma della regalità di Pio IX contrapposta alla sovranità dello Stato borbonico commenta che questi moti insurrezionali hanno avuto una particolare connotazione cristiano sociale e si interroga sul fatto di come questa connotazione sia platealmente dissonante rispetto all'episcopato di Monsignor Perrone che Cipolla definisce il più borbonico dei borboni e il meno cattolico dei cattolici dal punto di vista del riconoscimento della sensibilità politica e sociale quindi un'incongruenza purtroppo nota noi storici della Chiesa contemporanisti perché ancora nel novecento ancora dentro la cornice dei totalitarismi vediamo spesso gli episcopati locali agire in funzione della conservazione dell'ordine sociale anche quando è vicino alla tirannide e in questo caso però nel caso della Calabria ha un effetto devastante perché questo significa desolidarizzare quella sacralizzazione politica che è avvenuta appunto durante il risorgimento questa sacralizzazione religiosa della politica desolidarizzarla dall'obiettivo insurrezionale e questo fa sì che questa sacralizzazione viene interiorizzata lo sappiamo da tutti gli studi purtroppo sull'Andrangheta di Cicconti di Nicaso dallo stesso Cratteri viene interiorizzata nei riti di affiliazione mefosa dove ancora adesso ci sono richiami alla religione d'altra parte lo sappiamo queste picciotterie locali emulano le società segrete di stampo risorgimentale in questo periodo storico avviene questa appropriazione delle pratiche cospirative insurrezionali attraverso anche limitazione dell'articolazione gerarchica delle logge massoniche per gradi di iniziazione e questo segna una vera sconfitta del risorgimento questa è la domanda che ci siamo posti finora perché questi moti che sono anche così avanzati dal punto di vista culturale ideale lo statuto lo dicevo della società dei figlioli della giovanità era modernissimo riletto oggi si parla appunto di patto sociale ecco questa azione delle picciotterie emulativa delle società cospirative delle società segrete segna la morte di questi moti perché a differenza dei patrioti le società le picciotterie agiscono in difesa degli interessi dei grandi padroni dei latifondisti mentre invece i patrioti agivano dalla parte del popolo tant'è vero che la maggior parte di loro erano avvocati svolgevano anche un ruolo di patrocinio legale nelle vertenze sui territori comunali sulle acque pubbliche il fenomeno delle cosiddette revindiche cioè appunto le vertenze per l'appropriazione delle terre incolte aiutati anche da cronomi da funzionari pubblici quindi aveva un contenuto molto concreto questa attività insurrezionale dalla parte del popolo e questo smentisce già un altro stereotipo storiografico secondo cui i moti insurrezionali calabresi sarebbero stati semplicemente delle reazioni primitive ai conflitti di classe senza contenuto ideologico e politico e invece vediamo appunto attraverso l'azione di questi patrioti calabresi che aveva questo contenuto sociale legato alla questione della terra e questo è un tema che mi porta al mio novecento perché effettivamente queste battaglie per la socializzazione della terra sono legate anche alla Calabria contemporanea ad altre pagine belle dimenticate la Calabria antifascista partigiana del dopoguerra e poi la Calabria che nel 49 con le occupazioni delle terre a Melissia Fragalà nell'autunno appunto del 49 poi represse con violenza dalla polizia repubblicana però queste occupazioni avevano favorito poi la diffusione sul tutto il territorio nazionale di quella legge stralcio sulla colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici con termici che poi avrebbe portato nel 50 la legge segni una grande riforma agraria con effetti benefici per tutto il paese ma molto meno che in Calabria là dove proprio i fatti di Melissia Fragalà avevano dato un contributo fondamentale e questo mi riporta all'Ottocento torno al nostro periodo storico appunto per indicare il fatto che in Calabria agisce però la malapianta appunto questa azione della criminalità organizzata che è il braccio armato della di fondisti dei padroni padroni che vediamo nei fatti di Gerace del 1847 reazionari al potere nelle istituzioni che festeggiano quando i patrioti durante la prima grande insurrezione quella di massa del settembre 1847 quando 400 civili si spostano da Santo Stefano di Aspromonte verso Reggio Calabria quando questa insurrezione viene repressa nel sangue questi signorotti a San Luca Scilla Bianco Montebello eccetera eccetera festeggiano perché questa insurrezione è stata repressa e quindi forse questo risponde un po' anche alla domanda che aveva posto Spanò come era stato possibile questa repressione era stata possibile grazie alla complicità di questi reazionari e signori al potere però proprio la consapevolezza nei patrioti di un disegno contro rivoluzionario ed anche la ispirazione fornita il mito suggestivo fornito dalla spedizione dei fratelli Bandiera a Vallone di Rovito nel luglio del 44 rafforza consolida il senso di appartenenza di questi patrioti alla comunità politica di segno rivoluzionario che spinge appunto i nostri cinque giovani eroi dai 23 ai 28 anni alla ribellione che ha portato poi all'oricidio ma chi sono questi ragazzi l'ha detto benissimo Spanò grazie a quelle diapositive a me piace citare l'autoritratto di Bello Michele Bello definito il capo morale nel libro di Cipolla è un poeta in una poesia che cita Enzo Cataldo si descrive così ho bruno il volto ed ho la chioma bruna che in anellata mi discende a tergo dalla negra papilla un guardo emerge che il luogo ti disvelo e bicuna cioè dai miei bei caratteri scuri mediterrani si vede che sono nato in Calabria giusta ho la fronte e ognuno sicura io l'ergo contro l'imperversare della sfortuna che innanzitempo sul mio capo ad una cioè la mia fronte è diritta la tengo sempre alta contro la tempesta delle sfortune e mi piace molto perché mi fa pensare che il linguaggio delle libertà in fondo è sempre lo stesso mi richiama quel verso dell'inno della guerra civile spagnola di Michele Hernandez si memuero che memuera con la cabbe cioè se devo morire lo farò con la fronte molto alta ma pochi giorni prima di morire compone un altro verso e questa volta lo fa in Calabrese a parte che questo mi commuove perché anche nelle lettere dei condannati a morte della resistenza di tutte le resistenze europee si vede che nell'atto di morire si scrive nella propria lingua natale lo diceva anche Chiara Lubici a proposito di Elì Elì Gesù morendo sulla croce parla in aramaico parla nella lingua della madre e bello scrive in Calabrese di fronte alla morte la raggia mi distrugge e mi invelena che mi porta alla fosse e alla rovina la sorte mi perseguita e mi affrena lo pianeta s'arresta e non cammina allora è interessante traduco questa rabbia mi distrugge e mi avvelena mi porta alla fosse e alla rovina la sorte mi perseguita anche il pianeta si arresta e non cammina a parte l'importanza dell'uso del Calabrese ci tornerò tra un attimo però secondo me questo verso ci dice molto della personalità dei Calabresi ci dà una chiave di lettura l'enigma della personalità dei Calabresi che ritorna in tutta la letteratura dei viaggiatori del Settecento e dell'Ottocento Cipolla cita spesso Edoardo Lire come è stato detto ma la letteratura di viaggio inizia nel Settecento in fondo anche il libro del professor Cipolla è un libro di viaggio cioè è la scoperta di questo popolo calabrese da parte di un intellettuale milanese che però non sei milanese sono mantovano perdonami ci tiene d'altra parte come bel fiore ci aiuta a decostruire certi stereotipi quindi è un bel libro di viaggio in questo senso come sono i calabresi di Urelle Tavelle di Ravirol che sono appunto osservatori francesi del Settecento parlano di calabresi astuti si chiedono sono astuti furbi abili adulatori sono violenti dice De Rivarol citando il mito della Calabria Ferrox secondo il criterio che associa la sprezza del territorio alla personalità secondo l'approccio delineato da Schottobriand dell'istituto di Sturic invece secondo me per capire l'enigma di questa personalità la raggia questa rabbia ci dice molto c'è un sentimento che può essere talvolta anche tossico negativo quando associato al sentimento di vendetta ma è molto molto più spesso un sentimento nobile questo senso di giustizia contro contro la violenza e l'ingiustizia dicevo scrive in calabrese però scrive anche in italiano c'è negli scritti dei nostri patrioti un'alternanza di un italiano colto e letterario e il calabrese il dialetto scrivere in italiano non è assolutamente scontato perché come sappiamo dagli studi di Tullio De Mauro ancora all'indomani dell'Unità d'Italia nel 1861 gli italofoni in tutta la penisola sono soltanto il 2% della popolazione quindi scrivere in un italiano colto significa sentirsi parte della comunità nazionale ma i nostri patrioti anche quelli che ho citato prima legati a Benedetto Mussolino sono cosmopoliti poliglotti lo stesso Mussolino viaggia in Assia Minore nelle isole del Mediterraneo Cassimiro De Lieto viaggia negli Stati Uniti nelle Antille poi vive per dieci anni a Londra dove incontra Mazzini e il partito Wig Domenico Mauro un altro patriota è sulle Arcofu quindi sono italiani ed europei però sentono anche il bisogno di recuperare questa lingua calabrese e quindi le tradizioni questo fa parte di questa cultura romantica che loro rappresentano ad altissimo livello in quanto poeti chi non era avvocato era poeta e letterato e ritorna appunto alla lingua calabrese come avviene nel romanticismo dove c'è la riscoperta delle tradizioni e da questo punto di vista va segnalato anche nel 1839 la pubblicazione di un libro di Carmelo Faccioli le ricerche su Ibruzi che ricordava appunto le due radici antiche dell'identità calabrese da una parte Ibruzi definiti un popolo fiero forte bellicoso magari ignorante però streno difensore della libertà simbolo di virtù libertaria e repubblicana dall'altra i greci antichi che invece sono l'elemento civilizzatore la poleis quindi per il risorgimento calabrese i due elementi da tenere in considerazione attraverso queste radici Ibruzi e i greci antichi il popolo e la cultura un altro elemento che ci conferma questa riscoperta della storicità delle proprie radici è il nazionalismo albanese il libro non ne parla ne accenno vagamente per ceni proprio per dovere di completezza molti patrioti vengono formati nel seminario di San Demetrio Corone che ovviamente fa capo all'eparchia di Lungro dove avviene una riscoperta della cultura arberesce in chiave patriotica e illuminista quindi chi sono questi calabresi ne esce il ritratto di una calabria multiculturale profondamente europea ma anche radicata nella propria storia nella propria tradizione fatta di uomini liberi di spirito poetico romantico ed elegiaco che lottano per la libertà come in questo bellissimo verso di Gaetano Ruffo uno dei cinque martiri che Costantino Cipolla cita e io vi lascio con questo verso che dedichiamo anche noi alla piccola Matilde visto che l'è dedicato il libro ma anche il messaggio finale del libro libertà sola speranza che mi reggi in terra solo conforto dello spirito mio solo pensiero che mi elevi a Dio pace e ristoro alla mia lunga guerra allora qui in fila ho il professor Matteo Granata dell'Università di Roma e il professor Andrea Milue Fiorini dell'Università degli Studi della Campania buonasera intanto io temo di dovermi costituire perché l'avreste capito immediatamente temo di essere l'unico non calabrese della sala a questo punto oltre all'autore sono milanese quindi perfetto mi sono costituito anche se come molti milanesi diciamo ho delle radici che vanno anche più più al sud della Calabria appunto quindi questo l'ho detto e come la collega aggiungo che anche io non sono un risorgimentalista diciamo come disciplina anzi ho l'aggravante di essere uno storico economico praticamente quindi il mio approccio avrà probabilmente un taglio completamente eccentrico rispetto a quanto abbiamo detto fino adesso ringrazio il professor Cipolla dell'invito ma lo ringrazio anche per questo libro davvero è stato detto che è un libro che celebra un atto di libertà ossia questo sacrificio dei martiri ma secondo me celebra questo atto di libertà con un atto di libertà è un libro davvero originale ci vuole sempre al tavolo quello che diciamo fa comprare le copie io mi sono assunto questo compito ma lo faccio sentitamente è un libro davvero originale ed è un libro che trasuda una creatività che fatica a stare dentro nell'oggetto libro e lo si capisce fin dall'inizio diciamo da questa introduzione in forma di divagazioni che come si diceva ora contiene non solamente l'autore non solamente il suo punto di vista ma anche parte della biografia dell'autore parte della biografia dei familiari dell'autore quindi ci fornisce esattamente il punto di vista da cui poi osserveremo tutti gli avvenimenti che vengono ricostruiti sul piano metodologico un paragrafo diciamo perché mi sembra mi sembra necessario e quindi lo dico da storico osservando il lavoro invidiabile dal mio punto di vista di un sociologo che approccia la storia e quindi che scrive che scrive di storia che fa storiografia è un taglio davvero utile un taglio davvero interessante parte dal dallo scenario diciamo così per cerchi concentrici si avvicina all'oggetto della nostra osservazione quindi il regno delle due Sicilie le discussioni anche sulle interpretazioni dell'esorgimento insomma si restringe fino ad arrivare al capitolo 6 che come diceva prima la batte prima in modo molto intelligente a mio avviso è filmico è la ricostruzione cinematografica della delle gesta di quelli che poi saranno i nostri martiri ed è la ricostruzione cinematografica e non voglio non voglio sembrare che sdrammatizzo diciamo perché la parte drammatica di questa di questa vicenda arriva dopo diciamo ma come molti avvenimenti di quell'epoca la narrazione di questi di questi eventi contiene e a mio avviso giustifica anche un certo grado di di ironia in alcuni tratti perché quando i nostri i nostri martiri diciamo così sequestrano di notte sulla barca il il Bonafede diciamo il sottintendente Bonafede e il nome in arresto diciamo il sottintendente Bonafede poi nel processo attribuirà alla volontà di Dio quella di essere stato sequestrato in quel momento diciamo a una e la narrazione appunto come diceva Tommaso Abate prima la narrazione di questi fatti è filmica Bello sbarca la Marina di Bianco la mattina del 3 settembre diffonde la notizia del rivolto di Reggio distribuisce Coccarde convoca Verduccio Salvatore legge il proclama della giunta di Reggio invita a costituire bande armate insomma c'è questa narrazione cadenzata che tutto sommato ci descrive davvero in maniera palmare visiva quello che noi stiamo osservando dopodiché c'è una ricostruzione attorno a questi avvenimenti attorno al cuore diciamo di questi di questi avvenimenti delle persone delle figure che li hanno animati ossia dei nostri cinque e anche delle figure che circondano questi avvenimenti stessi e qui a mio avviso la sociologia storica diciamo prende il sopravvento e questo diventa un caso di studio che non a caso si intitola la composizione sociale del moto della Locride prende in considerazione questo come se fosse un laboratorio questi avvenimenti e ricostruisce a uno a uno le persone che li hanno in qualche modo animati prima di arrivare ovviamente al processo alla feroce scelta della fucilazione e così via ora a mio avviso qui detto del libro le poche parole su cui diciamo adesso vorrei concentrarmi per andare verso poi la conclusione è c'è il rapporto fra il micro e il macro mi interessa cercare di capire quanto 800 ci sia in questo avvenimento micro al di là del risorgimento al di là delle culture locali al di là di tutti i tagli che sono stati dati diciamo alla riflessione di questa sera cosa che a mio avviso emerge anche dal libro come detto appunto anch'io sono un contemporaneista mi sono fatto l'idea però nel corso delle mie ricerche dei miei studi insomma che l'800 sia il secolo che più assomiglia all'epoca in cui noi stiamo vivendo il lungo 800 il secolo delle grandi trasformazioni una grande trasformazione tecnologica la rivoluzione di fine 700 che poi ha una serie di conseguenze che si prolungano per tutto il secolo e oltre la rivoluzione tecnologica modifica i sistemi produttivi i sistemi produttivi e quindi l'economia i sistemi produttivi e quindi il lavoro e quindi i rapporti sociali le relazioni sociali l'emergere di nuovi ceti questo trasforma la politica crea nuove idee nuove ideologie questo trasforma le istituzioni il 900 visto dal lato delle istituzioni diciamo il crollo degli imperi il crollo dell'ordine successivo al congresso di Vienna l'emergere degli stati nazioni e noi da risorgimento vedendolo diciamo così con un prisma ribaltato endogenamente vediamo appunto la costruzione del nostro Stato nazionale allora quanto di questo 800 che io insomma sono andato per titoli quindi perdonatemi ma la rapidità lo impone quanto di questo 800 c'è in un avvenimento tutto sommato micro molto micro molto importante ma molto locale molto in Calabria molto apparentemente alla periferia come era l'Italia eh non che lo sia la Calabria come era l'Italia nell'800 molto alla periferia di questi grandi processi di trasformazione che segnano un secolo intero e lo superano perché eh da noi arrivano per esempio anche all'inizio del 900 la puntista della storia economica allora a mio avviso tantissimo e eh e lo e lo descrive bene proprio questa analisi della composizione sociale del moto della Locride eh i nostri cinque che sono per appunto un capo militare un un capo politico un capo morale un capo borghese i nostri cinque sono dei giovani di 25 anni ma sono gli esponenti di questo ceto eh che emerge eh nel nel corso dell'800 eh ovviamente in Inghilterra emerge 50 anni prima 60 anni prima in Francia emerge con la rivoluzione francese è il ceto produttivo è il ceto produttivo che cavalca il nuovo 800 è il ceto borghese che emerge dallo spaccarsi diciamo così dell'organizzazione sociale della composizione sociale dei secoli precedenti eh naturalmente qui è un ceto fortemente minoritario sono cinque giovani che tentano di cavalcare questa modernizzazione ideale culturale economica non a caso prende l'aspetto del conflitto della terra non a caso in tutte le parole d'ordine che sono parole d'ordine anche anche qui c'è un aspetto mi avviso leggendo non so se l'ironia fosse voluta oppure emerge cioè il mettere insieme più o nono con la costituzione con la giustizia e la libertà cioè sono parole d'ordine che apparentemente diciamo sono un puzzle impazzito e in realtà sono il prisma di tutte le idee i sentimenti le ideologie i conflitti sociali i conflitti politici i conflitti culturali un certo tipo di religiosità che emergono in quella fase e la composizione sociale di questi cinque borghesi che però si trascinano un ceto impiegatizio e si trascinano anche un ceto di diciamo così di agricolo ma di più ristrette dimensioni perché naturalmente lì i rapporti di potere i rapporti sociali i rapporti di forze i rapporti culturali sono molto diversi sta a testimoniare diciamo ci fornisce uno spaccato di quello che è l'800 in quel momento in quel luogo e l'800 gli anni 20 i conflitti del 20-21 e poi del 30-31 e poi dopo il 48 con l'antefatto qui vediamo del 47 ma con l'antefatto di Reggio Emilia di scusate di Reggio Calabria di diversi mesi prima quindi è un continuum di spaccature nella società che sono spaccature conflittuali perché sono le strutture materiali della società che in quel momento scontrando si provocano una trasformazione dove la modernizzazione non avviene sia perché ci sia sopra diciamo l'ordine militare del congresso di Vienna che però si incrina sia perché ci sia sopra un ordine sociale come in questi luoghi che non permette di emergere a queste novità produce quel conflitto che qui si vede e produce quel conflitto che finisce a mio avviso il titolo i titoli e le aggettivazioni che usa il professor Cipolla diciamo sono è inutile spiegarle perché si spiegano da sole naturalmente ma il processo militare è una fucilazione esemplare e il procedimento della sentenza di morte per l'esa maestà dicono esattamente di questo conflitto fra il moderno tra virgolette non voglio che sia frainteso diciamo questo termine che può avere anche tutt'altro fra una modernità che esce e una tradizione che resiste che produce appunto l'esigenza di una punizione esemplare e che produce una punizione esemplare per l'esa maestà diciamo che è quanto di più pre-rivoluzionario possa esserci ancora nel 47 comunque sia insomma a mio avviso il micro e il macro in questi avvenimenti si incontrano e il macro è ancora di più del risorgimento nazionale il macro è proprio tutto ciò tutti i fenomeni sociali economici e politici che attraversano l'ottocento in una qualche misura si compongono in un piccolo prisma dentro questi avvenimenti dentro questi avvenimenti che hanno i cinque martiri come protagonisti e per questo insomma che io ho trovato questo libro davvero molto interessante poi il libro ovviamente continua prende in considerazione l'eredità prende in considerazione l'eredità storiografica culturale la memoria i monumenti cioè come questa storia filtra oggi su questo è stato detto molto a mio avviso è molto importante che questa storia io che personalmente come ho detto e ritorno al punto 1 diciamo non conoscevo ma è una è una vicenda esemplare appunto non meno dei delle tante vicende che sono comunque richiamate nel libro molto più note molto più famose molto più celebrate e molto più radicate anche nella storiografia ma è una vicenda appunto che dice tanto oltre alla alla vicenda locale e alla vicenda risorgimentale secondo me si porta dietro molto e il professor Cipolla riesce a spiegarlo molto bene questo libro che davvero io ho trovato interessante grazie allora assumo sul mandato del presidente Antonetti il ruolo di coordinatrice ma mi riservo anche un secondo di discussant perché ci ha detto un episodio micro però abbiamo visto che un episodio micro macro ma anche sovranazionale perché tanti elementi in realtà fanno incrociare l'episodio del risorgimento calabrese con abbiamo detto il lungo ottocento per esempio quando si parla di Pio IX in realtà c'è una risposta da parte dei patrioti calabresi a quel neowelfismo che a livello nazionale si manifesta con Gioberti ma lo fa a partire da una matrice locale che però è contemporaneamente anche europea perché siamo nel periodo della grande riscoperta di Tommaso Campanella con eh quell'assoggettamento no di una futura confederazione italiana ad un'autorità religiosa che aveva teorizzato nella monarchia Messia e nei discorsi sulla libertà e poi ricordiamoci che in questa società dei figliuoli della della giovane Italia un affiliato era Domenico Settembrini che è una delle figure più importanti del risorgimento a livello nazionale e lui attraverso la conoscenza dei patrioti calabresi di Benedetto Mussolini elabora poi le grandi teorie della protesta del popolo delle due Sicilie quindi c'è in realtà un impatto del risorgimento calabrese attraverso la mediazione di Settembrini un impatto molto più vasto d'altra parte abbiamo parlato della letteratura di viaggio però in quel mille alla fine del 1700 lo cita non l'ho detto prima però lo dico adesso ci può la cita giustamente Giuseppe Maria Galanti che arriva dal capitale del regno da Napoli con un catechismo che in realtà è un questionario un sondaggio rivolto ai calabresi con domande fondamentali sulla loro vita e al partire dalla lettura di queste risposte dice la Calabria fa parte di un'Europa oggi diremmo globalizzata dal 1700 dall'illuminismo ricordiamo che la Calabria ha avuto uno dei più grandi pensatori meridionali che era Antonio Ierocades di Parghelia quindi un'identità in realtà molto più moderna di quello che pensiamo in piena trasformazione è saurito il ruolo di Discussant e tornato il presidente e do la parola all'ultimo intervento di Andrea Millefiorini dell'Università degli Studi della Campania Luigi Van Vitelli associato di Sociologia Politica Grazie ringrazio anche Costantino per l'invito il presidente dell'Istituto Sturzo per questa occasione che oggi si sta rivelando davvero interessante parto proprio dall'utilizzo che ho trovato molto pertinente di categorie sociologiche cioè micro e macro da parte di due colleghi storici e questo ci dà il senso appunto di quanto l'interdisciplinarietà sia un qualcosa di fertile di produttivo per parte mia appunto da sociologo diciamo cercherò di nel mio piccolo utilizzare delle categorie storiche per la verità ecco è stato detto giustamente dal collega Granata che quello di Costantino è un libro di sociologia storica e in effetti mi ritrovo pienamente in questa definizione anch'io sono un allievo di un sociologo storico sapete che la sociologia storica è uno dei metodi della sociologia il mio maestro è stato Luciano Pellicani appunto che era un faceva sociologia storica quindi secondo me i sociologi non possono non conoscere la storia è un po' come se un ingegnere non conoscesse la matematica o se un biologo non conoscesse la chimica diciamoci la verità indipendentemente poi dal metodo che vogliono utilizzare ma questa è una mia considerazione personale però vengo appunto alla discussione e alla presentazione del libro ma a mio avviso Costantino Cipolla con questa opera produce veramente una come dire una rottura una provocazione ma anche diciamo infila una lama nel burro rispetto a tanti discorsi che appunto è stato detto si sono sentiti e ancora si sentono diciamo quali sono vi dirò innanzitutto brevemente alcune alcuni spunti che ho trovato interessanti nel suo libro e poi alcuni temi alcuni fili conduttori che ho trovato lungo tutto il percorso narrativo innanzitutto il romanticismo come fenomeno di popolo appunto e quindi non solo come fenomeno di elite e quindi un fenomeno che per la prima volta rispetto alle correnti artistico-culturali che avevano caratterizzato la storia europea comincia a coinvolgere anche si estende comincia a coinvolgere anche non dico le masse ma come dire delle quantità o delle collettività più estese rispetto al passato quindi dice Costantino il romanticismo entrò nel popolo e quindi diversamente da quello che poteva essere il neoclassicismo e le stesse forme politiche di fine settecento e primi ottocento pensiamo appunto alla carboneria o alla massoneria che ancora a Buonarroti che aveva delle modalità organizzative che ancora erano molto molto ristrette e poi lì Mazzini appunto effettua la sua critica a quelle forme organizzative e lì possiamo dire effettivamente che il romanticismo prende corpo anche da un punto di vista di organizzazione politica secondo aspetto il risorgimento come fenomeno esteso appunto quindi il romanticismo è il risorgimento come fenomeno esteso se non di popolo certamente partecipato quindi un fenomeno interclassista interclassista perché poi nel libro sono presentati dei numeri diciamo delle distribuzioni anche statistiche delle appartenenze ai ceti naturalmente meno rappresentato del mondo contadino ma per il resto abbiamo presenze significative di tutti i ceti di tutti i ceti sociali e poi veniamo all'aspetto del risorgimento come fenomeno unitario questo a mio avviso forse è l'aspetto più interessante di tutto il libro che appunto viene sottolineato più volte e che ci mostra un fenomeno interessantissimo perché appunto coinvolge non solo coinvolge il sud di mezzogiorno ma addirittura il mezzogiorno noi non ci dimentichiamo che il 48 parte da Palermo cioè i modi del 48 sono del gennaio a Palermo scoppiano prima che a Milano le 5 giornate di Milano sono di marzo ma scoppiano addirittura prima che a Parigi quindi è il sud è dal sud che parte il 48 prima c'era stato il 47 in Calabria Palermo insorge e poi tutta l'Europa si incendia questo appunto in questo libro lo ritroviamo questo aspetto quindi un fenomeno unitario tutt'affatto diversamente da quanto spesso si dice che appunto il sud avrebbe appunto partecipato di meno al risorgimento no no e no assolutamente no questo va detto con forza e nel libro emerge ancora malgrado ecco nel libro chiaramente si evidenzia quanto comunque effettivamente malgrado il dualismo territoriale no cioè malgrado certamente sono da rigettare tutte quelle letture appunto neoborboniche o revisioniste o comunque diciamo di così di una piccola e mediocre analisi storica per le quali il sud sarebbe stato nel 1860 nelle stesse condizioni economico-sociali del centro nord malgrado la cosa più interessante è che malgrado invece il dualismo malgrado la disparità la differenza diciamo di sviluppo noi assistiamo a una coscienza politica pari a quella del centro nord e questo è un aspetto interessantissimo che emerge quindi su questo Costantino Cipolla ci fornisce appunto dati documentati di ogni tipo insomma e questo andava sottolineato i tre temi di fondo che appunto emergono dal libro e che riprendono appunto quanto dicevo prima primo tema appunto il pregiudizio risorgimentale di impostazione nordica viene ricordato giustamente come una certa storiografia risorgimentale tenda sempre a concentrarsi sul nord e appunto quasi a dimenticare o a svalorizzare il sud scrive a pagina 80 senza questa storia senza questo nostro tra virgolette altro risorgimento visto dal regno delle due Sicilie e dalle sue tante e cruciali insorgenze sparpagliate sul suo territorio il risorgimento non potrà essere mai tale perché è azzoppato da questa inspiegabile forse e comunque non effimera mancanza quindi ecco qui appunto il merito è questo e di sottolineare quanto invece ci sia una pari compartecipazione al fenomeno risorgimento secondo tema oltre a un pregiudizio diciamo di impostazione nordica io ne è stato detto io sono diciamo non sono calabrese sono di roma quindi come dire più o meno ho una equidistanza diciamo da questo punto di vista però sento molto questo aspetto sento ecco quando Costantino scrive Costantino che appunto è del nord però io ho trovato nelle sue parole veramente un affetto nei confronti del sud una manifestazione di dolcezza diciamo e di vicinanza diciamo di come dire di sentimenti morali nei confronti del sud del mezzogiorno che è raro trovare in autori in autori di altre cioè di provenienza tra virgolette padana no? ecco secondo tema e quindi vado diciamo rapidamente a concludere il mio intervento il secondo tema oltre al pregiudizio diciamo di impostazione nordica c'è un pregiudizio di impostazione politica e qui appunto veniamo al tema anche questo la vexata question sul fatto che il risorgimento lo avrebbero fatto soltanto delle elite no? soltanto dei gruppi molto ristretti perché l'Italia non avrebbe avuto una borghesia perché l'Italia in realtà al risorgimento non importava a nessuno qui anche qui nel libro viene spiegato che questo è una chiave in realtà per sminuire il risorgimento per motivi politici e quindi tante correnti tante come dire filoni politici hanno avuto più o meno interesse a dare questa versione Gramsci riteneva appunto sopravvalutato l'apporto delle classi popolari al risorgimento e qui volendo appunto potremmo leggere a pagina 80 come viene spiegato molto bene tutto questo naturalmente no? e quindi lo scansamento dice Costantino Cipolo lo scansamento della storiografia politica ma a volte anche accademica relativamente alla partecipazione diciamo se non del popolo ma di fasce significative della popolazione al risorgimento e come dire l'episodio di Geraci ce lo testimonia il terzo tema e questo diciamo veniamo più a un ultimo aspetto che noto diciamo ho notato personalmente che mi rimanda a un interesse personale che sto coltivando in questo periodo c'è il concetto di spirito di un'epoca ecco quando appunto noi vediamo che dei ragazzi di vent'anni che mettono a rischio tutto che lasciano tutto che come dire rinunciano a tutto pur di sposare un'idea pur di mettere diciamo a repentaglio e di raggiungere un obiettivo qui secondo me c'è qualcosa di più che una semplice elemento ribellistico o economicistico o come dire istituzionalistico no qui c'è qualcosa che va oltre questo Costantino lo coglie c'è appunto una diciamo una generale un sentimento collettivo c'è uno spirito di un'epoca che è un concetto che va ripreso a mio avviso che ci può spiegare moltissimo di certi come dire accadimenti che noi tendiamo a spiegare soltanto entro certe prospettive ma che però se declinassimo anche con il concetto di zeitgeist che appunto è un concetto molto filosofico in parte anche storico per carità che invece la sociologia ha molto poco frequentato e quindi è per questo che mi interessa vorrei capire come invece potrebbe essere utilizzato anche in chiave sociologica ci può spiegare questi accadimenti e qui concludo con due appunto citazioni che ho voluto riportarvi che mi sono molto piaciute perché appunto da questo punto di vista di spirito di un'epoca leggiamo la carica ideale di questi giovani appare a volte quasi sconvolgente e non credibile essi non si posero praticamente mai il problema di chi avevano di fronte i vincoli strutturali che si opponevano al loro tentativo e cioè un esercito praticamente impegnato solo in operazione di polizia una chiesa del tutto borbonica un apparato istituzionale nobiliare più che conservatore come potevano essere abbattuti o mutati da un ridotto numero di giovani studenti e ancora concludendo il risorgimento non può essere inteso secondo la logica peraltro ben più generale delle due italie troppo strutturate e a suo modo riduttiva dal nostro percorso è emerso un viaggio storico che pur avendo ovvie valenze politiche è vissuto da persone che mettono in gioco loro stesse che è sospinto da sentimenti irrefrenabili che incrocia vecchi e giovani ricchi e poveri senza alcuna chiusura a prioristica di sorta vi ringrazio grazie per quest'ultimo intervento che propone insomma la felice condivisione delle ricerche tra sociologi e storici cosa su cui io concordo adesso ci sono le conclusioni del professor Cipolla le conclusioni è un termine è sbagliato perché le ricerche non si concludono mai Costantinosa e quindi diciamo lancio concludi e rilancia grazie no io intanto devo ringraziare voi perché il senso di questo nostro incontro come anche ha evidenziato il presidente il presidente dell'istituto glorioso che ci ospita in questa gloriosa sala di escendenza raffaellesca non è proprio così facile insomma lo dimostra e quindi a me interessava riuscire col contributo di colleghi studiosi come avete visto e anche di altri che oggi sono venuti come ho già detto purtroppo due non sono potuti venire ma per ragioni come dire assolutamente evidenti giustificate e anche se hanno voluto dare il senso di queste cose ebbene questo io volevo sottolineare cioè il fatto che in qualche modo un evento come quello diciamo di origine avvenuto tra Reggio Calabria e diciamo la Gerace che all'epoca si chiamava Gerace allora dicevo questa situazione che si è avvenuta a creare così ridotta e che a me è così affascinato come vi sarebbe accorti si è qui stata discussa e come dire è confrontata con le varie avete sentito interventi e letture anche diverse diciamo tra di loro ecco io per la verità molte cose da dire come repliche non 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 ce le avrei perché quello che è stato detto a vario titolo ecco quello le seguo velocemente ringrazio ovviamente gli interventi istituzionali vi ho già detto che faremo una cosa con gli studiosi locali a Gerace prossimo ottobre in modo da capire come dire anche coloro che hanno studiato la realtà non attraverso i miei occhi ma attraverso i loro cosa veniva fuori ecco quello che voglio dire è che io l'ho vista senza rinunciare a me stesso perché io sono padano eh Mantova sotto il lago di Garda tra Mantova e Brescia però non sono milanese chi è chi ha detto ecco perché la distanza tra noi e Mantova è al confine come sapete di dell'Emilia e del Veneto quindi è una terra mista non così esplicita e autocontemplata come certo come Milano però è chiaro che anche Mantova vive di cattolicesimo sociale Lombardo insomma ha molte vicinanze con la terra milanese io l'ho letta così e l'ho letta così senza particolari interventi accettando tutte le varie eventuali critiche e opponendomi ferocemente a chi dice che solo chi vive una certa realtà può in qualche modo poi descriverla è vero che vivere una certa realtà aiuta ma in certi casi ottunde perché uno non si rende neanche conto bene cosa cosa ha fatto rispetto all'intervento di del nostro presidente Antonetti io sinceramente non non ho niente da da quello che lui dice è una sua lettura che io in buona parte condivido anche se alcune cose le ha dette lui le ha capite lui le ha sviluppate lui ed ovviamente non sono non sono mie però lui essendo un glorioso e vecchio storico evidentemente mi è fatto piacere tutto ciò che lui ha diciamo così cavato fuori da questo libro soprattutto per quel che riguarda le logiche di originalità Spanò non c'è più non c'è più perché ha fatto il suo intervento come avete visto però è stato utile perché ha dato l'idea anche lui fisica io come dire ho cercato di darla per iscritto ma un conto è scrivere un conto è vedere sapete che c'è una bella differenza una delle domande che lui poneva è allora lui critica ferocemente la chiesa Spanò si pone il problema dell'enigma annunziante insomma si pone problemi reali io nel libro do una serie di tentativi di risposta quello che lui pone è fuori discussione vi ricordo però che c'è una prefazione del vescovo che se l'avete letta non è che proprio dica viva Verrone dice la chiesa eccetera eccetera quindi c'è anche una sorta di riflessione ulteriore dopo 150 anni che insomma è una sorta di autocritica avriamoci chiaro che io ho apprezzato e ho anche valorizzato l'abate avete capito che è venuto lo stesso anche se è tra Kamala Harris e Trump perché oggi qualcosa da fare hanno i giornalisti non è un giorno qualsiasi ecco mi ha colpito di lui come anche di altri che sono intervenuti che avete sottolineato l'inedita la unicità della storia di questa storia diciamo raccontata e al fatto che andrebbe divulgata nel riferimento a Netflix cioè a queste ricostruzioni storiche romandate non lo so io non ci avevo mai pensato però per quel che riguarda l'intervento della professoressa Sergio che si chiama Sergio di cognome ma dove sei ma insomma proprio Sergio proprio con Sergio hai poco a che vedere ma intellettualmente noi non siamo sicuramente ecco niente io quello che hai detto sono d'accordo sostanzialmente su tutto quello che hai detto compreso l'accenno che hai fatto la lettura dell'esterno perché la pure verità non è che possono improvvisamente diventare calabrese io ho fatto questo libro perché mio figlio si è sposato con una calabrese di Locri no di Locri per la verità abitano a Modi che è comune di Gerace ma insomma lì della Locri di quella che è sempre stata storicamente diciamo la Locri quando mia la moglie di mio figlio è rimasta incinta i maschi ancora non restano incinti quando la moglie mi è rimasta incinta a me è venuta questa idea che avevo sentito raccontare nella famiglia La Rosa che è la famiglia di mia nuora e da lì mi sono messo e con l'aiuto loro con l'aiuto perché ho conosciuto tutti e come ho già detto del sindaco Boverino che è morto che mi diede subito uno slancio notevole da lì poi impostai un po' per volta è venuta fuori questa ricerca che è andata sostanzialmente da Napoli a Reggio Calabria per dire i luoghi maggiori ma che è stata anche è andata anche in paesi piccoli perché questi paesi che io ho citato sono paesi da centomila abitanti ma da qualche migliaio quindi quello che ho trovato e visto e recuperato e pubblicato e perché avete non so se avete colto perché ma moltissima roba è stata ripresa come si chiama quello che li stampa i libri a Locri come si eh eh ecco eh ne ho trovato in un sacco ma come si fa a trovare quei libri lì sì però pancato quello che mi ha che mi è stato più utile ho trovato libri di 50 60 80 anni fa e dove li trovi se non li riprendi e li mantieni questa è un'utilità l'evoluzione della storia che se no io non avrei mai potuto scrivere perché ma dove ho trovato un libro nel 1921 boh cioè andate in biblioteca chissà cosa è successo nel frattempo quindi insomma c'è stato questo tipo di eh lavoro la lettura poi che è stata fatta da Mattia eh Granata eh che come vedete lui si è definito cioè definito è uno storico dell'economia è mi ha colpito lui che abbia sottolineato lui economista che abbia sottolineato questa creatività che trova nel libro e mh questo ottocento che lui cava fuori io ho scritto molte cose sull'ottocento quelle di Marti di Gerace sono mille pagine quindi i Marti di Mantua sono mille pagine ma ecco questo fatto che tu abbia sottolineato questa specificità di lettura ottocentesca che forse avendo fatto molti lavori sull'ottocento io non sarei mai riuscito a fare un libro così se fosse stato il settecento eh vorrei chiarire perché il settecento non l'ho studiato non l'ho scavato mentre qui le strutture che si scontrano i conflitti tra moderno e tradizionale ecco come lui li ha visti dal suo versante diciamo ricordatevi poi che cosa che avete sottolineato in pochi io dedico un capitolo al confronto tra questi poveretti i fratelli Bandiera i fratelli Bandiera vanno lì sbarcano lì a nord del cortone da quelle parti e cercano di come dire sollevare la popolazione un gesto un po' fuori dai coppi direbbero in linguaggio poi vengono catturati vengono vengono catturati perché insomma non c'è nessuno che si muove e poi cosa succede che cercano con lettere piuttosto di compromesso di uscire dalla situazione cercando di salvarsi io documento meticolosamente i nostri martiri non cedono di un secondo nessuno di loro fa una operazione pur essendo stati sollecitati a dichiarare per avere salva la vita altri insomma di fare la spia sostanzialmente nessuno cede mentre solo che i fratelli bandiera furono poi inglobati erano figli di famiglie di ammiragli del nord di ammiraglio del nord famiglia madre mazzini lì eccetera eccetera allora se tutti se noi facciamo una cosa anche in calabria sui fratelli bandiera questa emerge se diciamo martiri di geraggi ma secondo me sinceramente proprio non invece dal mio punto di vista non me la sento di quanto a mille fiorini io non quello che lui ha cavato fuori dalla lettura non mi come dire non mi crea qualche problema e mi è fatto piacere che abbia sottolineato questa mia delicatezza che a me è venuta spontanea nel leggere come dire il sud il sud nel suo insieme sociale non il sud come montagna o come mare ma il sud come vita quotidiana e sociale e quindi in questo senso lui poi chiude accentuando la sua categoria interpretativa no dello spirito di un'epoca è vero però è anche vero che questi poi sono morti fucilati quindi a parte lo spirito se no siamo di nuovo a croce invece questi non è che lo spirito certamente li animava e certamente c'era perché se no però forse plurale qualcosa di plurale ma soprattutto sono morti morti alla fine per chi per che cosa per la libertà la democrazia il fatto che noi possiamo esprimere le nostre idee e ce le costruiamo come abbiamo fatto oggi senza che nessuno venga alla porta a dire cosa state dicendo o facendo comunque io vi ringrazio di cuore ringrazio il mio amico professore storio che ci ha ospitato e tutti voi grazie infinite grazie 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 a tutti